Musica Stasera l'Università d'Estate sull'Intelligence ha toccato un tema centrale del quale finora in Italia si è poco parlato, cioè la nuova via della seta che la Cina sta organizzando per promuovere i propri interessi economici, ma probabilmente anche di altra natura, culturale, civile, politica, probabilmente anche militare. Parlare di questo nel nostro paese significa capire quello che sta accadendo nel mondo e occorre fare dei confronti. E quello che abbiamo ascoltato stasera ci fa riflettere sul rapporto tra globalizzazione e democrazia, su democrazia e sviluppo economico e sul ruolo che hanno le elite, cioè se i criteri di merito, i criteri di formazione permanente, i criteri della programmazione di lunga durata, i criteri di una decisione stabile, rapida e veloce siano decisivi per comprendere quello che sta accadendo e governare il mondo che c'è e soprattutto quello che verrà. Per andare a fare delle riflessioni che sono fuori dal coro e politicamente scorrette, la democrazia è compatibile con la globalizzazione. Decisioni più rapide significa ridurre la rappresentatività delle stesse? Ecco, sono temi importanti sui quali occorre riflettere e che richiedono delle considerazioni serie e attente senza rispondere per luoghi comuni, comprendendo che oggi la crisi della democrazia è probabilmente crisi della rappresentanza. Grazie a tutti.